Posso vedere quelle foto? E adesso che c'è? Sì, voglio vederle! Voglio davvero vederle! Horizon B9! Qui parla Horizon B9! Mi sentite? Guardate il cielo! Ehi, seguimi e tieni il passo! Ramiro! Sei tu? E altrimenti, conosco il posto giusto per ampliare il festival, ma il percorso ci porterà attraverso la parte più fitta della giungla. Ti fidi di me? Ma certo! Aspetta, perché non dovrei? Allora segui per la strada, ti guiderò dall'alto! E prega che il tempo regga! Sono io o il cielo ha un aspetto glorioso? Siamo arrivati a Teotihuacan. Temo che siamo un po' in ritardo per questo festival. Il nome significa luogo delle strade degli dèi. E svolgiamo a sinistra! A quanto pare abbiamo attirato il dio della tempesta! Rami, sei sicuro che dovremmo dirigerci verso questa tempesta? Un po' di pioggia non ha mai fatto paura a nessuno. I Maya lo sapevano bene. Si dice che Chuck colpisca le nuvole con un fulmine per far cadere la pioggia. E sta andando tutto bene lassù? Non preoccuparti, ho ancora il controllo completo! In realtà, non ho il controllo completo! Sai una cosa? Non voliamo proprio dentro quella tempesta! Horizon B9, atterro nella giungla! Atterrazzo riuscito! Ramiro! Stai bene? Benissimo! Se sopravvi a un atterraggio vuol dire che era buono! Sono atterrato vicino a una specie di tempio allagato, già su un ratto segnaletico! Qui non c'è più nessuno da un pezzo! Guarda, anche gli scavi sono abbandonati! Una spedizione in una città perduta? Riscoperta da te, Ramiro Luis Miron, e dal festival Horizon! Ehi Rami, penso che darò un'occhiata in giro per trovare un posto dove posizionare il faro. Non voglio interrompere la tua lezione di storia mesoamericana, basta prendermi quanto vuoi! Ma presto! No c'è più il rapporto dove chiede su finestra in giroRE! No c'è molto bene! Grazie a tutti È molto potente Puoi scappare una foto? Magnifico, vero? La gente veniva al tempio da chilometri di distanza Solo che probabilmente arrivavano a piedi Penso di aver trovato il posto giusto per quel radiofaro di Horizon Pulse Il radiofaro è montato e sta trasmettendo Ottimo lavoro Adesso almeno qualcuno sa dove siamo Il festival va e viene ogni anno Questo è qui da migliaia di anni Penso che potrei eseguire un salto attraverso questi archi e oltre le rovine Ho appena visto un'auto volante Dimentica le auto volanti Credo di aver appena visto un pienile Tardi ci darò uno piano Ecco l'aereo E la nostra uscita Ecco l'aereo Each piano Wow, credo di aver trovato la statua d'oro Fammi scattare Fare una foto Mi hai trovato Bene, andiamo sulla costa Le tempeste possono essere un male Ma gli antichi popoli di questa regione conoscevano il valore della pioggia Stai bene Stai bene Io non ho intenzione di diventare oggetto di scavo della prossima spedizione archeologica E tu? No Questo luogo è sicuramente più bello senza di noi Andiamo Alcune strade potrebbero essere bloccate Ti guido io Sembra che ci sia solo un modo per raggiungere la costa Attraverso il cuore della tempesta Vuoi farcela? O fiducia in te Fai del tuo peggio Siamo riders on the storm Cavalieri della tempesta Non temiamo nulla Lavori in corso Dovremmo attraversare la palude Gira a destra Spero ti piace il fango E cosa ci sarà mai di meglio? Aspetta Ok Ci è mancato poco Vai più veloce per favore Le nuvole si stanno diradando Continua ad avanzare Per ora il peggio è passato Tulum è proprio dietro l'angolo Eccoci alla splendida Tulum Ce l'abbiamo fatta! Ma il meteo non è stato clemente Hai ragione Ma queste spiagge hanno un aspetto magnifico Sai, penso che questo sarà il posto perfetto Penso che tu abbia ragione Non è solo